E mangia pure lei. Un'olivetta. Alzo. Pollo. Un po' de petto de pollo gli manda via tutti i cattivi pensieri. Il piatto. Ecco qua. Se intanto vuol mettere quella musica, ho capito che è bella. Mi piace pure a me. E che è sta roba? Mi pare di averla vista in un film.